Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questa nuova recensione, a questo nuovo appuntamento nella sezione acquisti. Come vedete oggi sono stato in un punto vendita giocheria e ho trovato alcune offerte, quantomeno c'erano dei prezzi scontati rispetto all'ultima volta che ci sono stato, e vi faccio vedere cosa ho preso. Ecco qua, questo è il kit diciamo di Batman Arkham City dove vediamo Nightwing verso Killer Croc. Eccolo qua, DC Comics Multiverse è la linea ed è stato prodotto dalla Mattel. Qui vediamo gli altri componenti che insieme come vedete formano tutto un diorama, uno scenario. E questo veniva inizialmente 39-40 euro, adesso è un prezzo scontato del 25%, quindi 30 euro. E devo dire che mi sembra un prezzo abbastanza onesto per questo 2-pack, chiamamolo così. Poi, insieme c'era anche questo qui sempre da Arkham City, qui vediamo Batman verso Solomon Grundy, eccolo qui. E per finire, sempre a 30 euro, ho preso questa versione di Batman, la versione Armored, sempre DC Comics Multiverse, sempre un prodotto Mattel da Batman verso Superman. Questa è la versione da 12 pollici, quindi stiamo sui 30 centimetri circa. Faccio vedere rapidamente la confezione, dove dietro vediamo gli altri due componenti, Wonder Woman e Superman, disponibili per la stessa linea. E questo ragazzi sarà destinato ad essere customizzato, già ho in mente come lavorarci. Comunque ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questi acquisti, fatemi sapere se volete vedere le loro recensioni, se avete delle preferenze su chi vedere per primo. e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti da Emiliano.